Pur in presenza di alcune incertezze, si delinea il futuro dello stabilimento Stellantis di Prato-la-Serra dopo l'incontro di ieri a Roma con il ministro Adolfo Urso. Entro la primavera del 2024, con il lancio del nuovo motore che verrà prodotto in esclusiva mondiale a Prato-la-Serra, la crisi che ha accompagnato l'azienda negli ultimi 15 anni dovrebbe essersi definitivamente superata. Essere esclusivisti di tutto il gruppo Stellantis, commenta Giuseppe Zaolino della Fismic, significa sbaragliare la concorrenza interna al gruppo e assicurarsi occupazione e produzione per i prossimi anni. Più cauta la CGL. Per dare concretezza al progetto serve un accordo al quadro nazionale sui stabilimenti italiani di Stellantis. In particolare il segretario dei metalmeccanici FIOM, Giuseppe Morsa, mette sul tavolo la sfida che tutti hanno davanti. Oggi la produzione di veicoli commerciali è ferma alle 500.000 unità che, dentro l'annunciato percorso di sviluppo, dovrebbero diventare non meno di 1.300.000. In questo senso servono chiari e precisi impegni su investimenti e occupazione.